...degli smartphone a scuola. Ah, va benissimo. Grazie. Sono d'accordissimo con le ultime decisioni prese dal governo. I smartphone vanno nel cassetto del professore. Cioè, infatti, magari che li abbiano, però, quando sono in classe... Certamente, quando sono in classe, in classe si sta... Con un certo contegno. Lo penso anche io, grazie. ...le vanno subito, deve scomparire. È deleterio. Non seguono la lezione, giocano col giochino, imbrogliano, via dicendo, via dalle classi. Allora, è giusto che i smartphone siano eliminati, secondo me, sia dai professori che dagli studenti. Perché a scuola si va per imparare, per leggere, e non per fare scuttanate con i ragazzi. Certamente che non è facile, perché ormai questo smartphone, come chiamiamoli, è entrato dentro nella società. Comunque, la mia idea è... Un'altra cosa che si va per imparare, per leggere, e non per fare scuola. Un'altra cosa che si va per imparare, è un'altra cosa che si va per imparare, è una cosa che si va per imparare. ... Un'altra cosa che si va per imparare, è un'altra cosa che si va per imparare. Elle sua per imparare, è una cosa che si va a imparare eと思います, è leggergged qualcosa che si va per imparare. Come magari! Tra iscrivitiata giallo. Ho... 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 Ho...